Liste d'attesa per gli esami specialistici del sistema sanitario triestino sotto la lente di ingrandimento della procura della Repubblica di Trieste. Il procuratore facente funzioni Federico Frezza, come anticipato dal quotidiano Il Piccolo, ha avviato accertamenti sulle liste d'attesa. Si è recato di persona al CUP dell'ospedale Maggiore per acquisire le impegnative in evase e verificarne le motivazioni. Si tratta di 812 prenotazioni. A scendere in campo è stata anche la Guardia di Finanza che ha sentito il responsabile del centro unico di prenotazione. Al momento l'attività della magistratura ha la natura di un accertamento della situazione esistente e non sono state formulate ipotesi di reato. Tutto è scaturito da un cittadino che recatosi all'ospedale Maggiore per una visita dermatologica si sarebbe visto fotocopiare l'impegnativa dell'addetto allo sportello senza però alcuna data circa l'effettuazione concreta dell'esame. Il servizio d'accoglienza al pubblico è gestito da una cooperativa che lavora per conto di Asugi. Dunque l'appuntamento non è stato fissato nemmeno a mesi di distanza. Stando i primi accertamenti il personale fissa gli appuntamenti appena si liberano posti. In questo caso i cittadini possono ricorrere al privato e ottenere rimborso da Asugi ma stando a quanto rilevato dagli inquirenti alle persone non sarebbe stata consegnata né una ricevuta né un documento in grado di attestare la loro richiesta al servizio sanitario pubblico elemento necessario per dimostrare il percorso seguito. Il magistrato peraltro avrebbe trovato le impegnative acquisite con soprannotazioni fatte appena dagli addetti con diciture del tipo non disponibile piuttosto che agende chiuse ma senza alcuna annotazione cronologica della loro presentazione allo sportello.